Allora, noi abbiamo fatto questo progetto, stiamo arrivando alla fine, si concluderà il 31 di dicembre, speriamo di avere dato tanto sul nostro territorio e speriamo di riuscire ad avere dei riscontri negli anni a seguire. Quindi una cosa positiva è stata quella di riuscire a collaborare fra i vari partner e anche con le altre associazioni che sono entrate successivamente. Quindi speriamo di avere dato tanto alle persone che sono venute a partecipare ai vari progetti e ai vari corsi che abbiamo fatto. Abbiamo avuto dei riscontri positivi perché abbiamo avuto molta influenza, abbiamo dovuto anche replicare molti corsi. Quindi di conseguenza speriamo che nell'arco degli anni proseguire avremo un riscontro sempre migliore e spereremo sempre di poter continuare a fare queste cose qua anche se la regione non ha la possibilità di darci una mano, cercheremo di portarla avanti perché vorremmo continuare di fare rete con tutte le associazioni del territorio e di tutte le associazioni di Bologna. Questa è la cosa più importante, riuscire a fare rete fra di noi e penso che sia una cosa magnifica perché il volontariato a Bologna serve e come è sempre servito negli anni precedenti. Adesso si vede che andando avanti avremo sempre più bisogno di queste forme di aggregazione. Quindi penso che siano cose stupende. Ecco, questo è quello che speriamo di riuscire a vedere nel futuro. Grazie.